Il braccio della gru che stava manovrando lo schiaccia e muore. E' accaduto l'operaio di 47 anni di Torre Santa Susanna, Piero Miccoli, che è morto questa mattina in seguito ad un grave incidente sul posto di lavoro, in un cantiere nella marina di Porto Cesareo. L'uomo è rimasto schiacciato nella cabina, travolta dal braccio meccanico che improvvisamente si è staccato dalla gru che egli stesso stava manovrando. Questa è la prima ricostruzione dell'accaduto. La ditta per la quale il 47enne stava lavorando appartiene al fratello Antonio, anche lui di Torre Santa Susanna. L'impresa stava eseguendo alcuni lavori all'interno della villa privata sulla Porto Cesareo Torre Castiglione, all'altezza di Lido Samanà. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, ma i sanitari non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spesal. La salma della 47enne è ora a disposizione della magistratura.